sembra che abbia salvato sto giro ehi laccio ormai io sono messi a testa e benvenuti in questo nuovo episodio di shop e keep in cui andremo a vedere shop e keep due due in cui andremo a vedere cosa ci aspetta al di fuori della città tra l'altro ho visto che ci sono rimasti dei soldi quindi andremo a comprare anche il piccone la vanga non credo che riusciamo la pala ma il piccone sì non abbiamo bisogno di fare altri ordini 120 ok che laggata e 107 vada abbiamo tutto adesso possiamo andare a provare a vedere che cosa ci aspetta al di fuori della città allora ci sono le guardie qui che ci salutano salve no non ci salutano neanche ci ignorano posso tagliare la legna così no oh dio ah ok no questo viene tagliato ma questi grandi no no non mi dice niente posso recuperare acqua bevendo vita bevendo l'acqua sì ecco il piccone che pietra taglia allora voglio ci sono delle case anche qua fuori tra l'altro molto bellino la periferia diciamo salve tom tre chili ma sono dei tizi giusto così dove trovo degli altri alberi però da tagliare ah c'è una persona qua con un punto interrogativo e un albero tra l'altro ah fish vendor ok salve fishing daily raccogli 5 pesci e sblocca delle nuove ricette ok ma come ah ok devo comprare la canna da pesca che costa 303 anche no sarò povero al momento ahia chi mi attacca da dove ho poca vita è un lupo posso occupaggiare gli oggetti on the go si ok più che altro perché così almeno non mi non mi colpiscono se li colpisco dalla distanza ci sono degli altri posticini qua non recupero vita comunque se non consumando acqua il pane mi ridà vita molto poco non mi conviene usare il pane mi vende della roba più interessata di quanto posso vendere io ok mi vende dei fiori rock on a stick ma ce l'ho io già cosa vuoi vendermi poi fa schifo quella roba c'è una barca scusate posso andarmene ah no under construction oddio adesso niente è la fine no ma invece no posso uscire dall'acqua ok per fortuna dove siamo però adesso siamo nel mezzo del nulla ah crab farm c'è una fattoria ah poi io sono qua qua ci sono dei lupi io avevo bisogno di uccidere anche dei ragni che sono però da un'altra parte di qua di qua di qua di qua ok io vorrei andare a vedere la fattoria però quindi vuol dire che devo andare sempre di qua perchè c'è un albero in fiamme cos'è quella roba perchè perchè cosa succede cosa succede cosa succede spiegatemi qual'è il problema ma ah ho sbloccato l'achievement but why ma perchè non è così tanto per allora allora però datemi sta no via sta pelliccia più che altro ho bisogno della pelliccia non di carne di lupo che dato non so neanche se posso usare la carne di lupo ah però le mele credo di poter usare questo tempio qua che cos'è ma di nuovo basta sti lupi del manga da dove tra l'altro c'era era un falso allarme eh fatemi fatemi tagliare sti alberi va collect wood 3 su 9 dove devo andare per sta fattoria sempre dritto di qua ok ci sono un sacco di lupi preannunciati quindi ah la forse posso scavare del minerale si la per forza la c'è del minerale cos'è cos'è ho visto della roba cattiva dov'è oddio sono tantissimi ok ok una pelliccia di lupo su coliglio posso uccidere posso uccidere il coliglio no chiedo ancora sti lupi ok allora prendiamo sto piccone ne ho tutto c'era solo quello ah no posso salire ahhh posso che raccoglie ste erbe no ah no me l'ha droppato quindi vuol dire che la sotto non l'ho mica preso perché non me l'ha droppato ma me l'ha droppato laggiù in fondo dai cosa è questa storia ops per la sotto c'è da pescare ehhh quanto 10 mi so anche di questo eh rich smelt 10 iron ore ah con subastamina il picconare o attaccare o varie cose ah ci va per prendere sto oro questo ferro dove 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 l'ha sparato eh qua giù ma ti pare ma che case ah c'è un altro qua tra l'altro quanto iron ho 7 ah c'è un altro la e arriviamo a 8 dai 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 ecco ecco questo è un altro no no ma questa è la fattoria si ah for sale devo sbloccarla allora mi sa andiamo a vedere sti eh ragni sono di qua vero si qua ci sono prima i granchi e poi ci sono i ragni ecco poi già va solo magari eh l'arco ah ah guarda i granchi ah guarda i granchi Ah mi danno le chele Le chele di granchio Ok Ho visto che uno guadagna di più a Cos'è quella roba? Una frana? Quello guadagna di più a Procacciarsi le risorse che non a comprare e rivendere Dove è andato? Quanto Ancora questo dovrebbe essere abbastanza Dove? Si minterò Voglio vedere Ho visto degli strani Cose Aia Ma non è che brutti A fortuna è un poca vita Spider silk Ok ma Quindi da posso toccarlo o no? Altri alberi Ah qua c'è un albero X No Però voglio Mettermi un attimo Al posto del cappello In mano Una Ok E Mangio le mele Se non altro Eh Adesso ci sono altri alberi In giro Qua c'è una frana infinita Che credo sia il motivo per cui non posso andare nell'altra zona Ancora Eh Ci sono altri ragni Sì Andando al sud Di qua Allora Però voglio Continuare in qua Perché così vedo Quell'altro Pezzettino di case Che mostra la mappa Ah ok Quel piccolo recinto là Vediamo Che cosa ci Presenta Questo recinto Si entra di qua Si entra di qua Si entra di qua Di qua Di qua Era una sorta di fortificazione Si Da dove No Da dove si entra Ah di qua E boh niente Fine Ci danno da caduta Sembra di no Allora Abbiamo detto che Dove andare a sud Di qua Sì Sud In quella direzione Forse Vediamo che Sbettino di correre Se vi serve la stamina Per combattere Là c'è Dell'altra legna Ok Che avesse unido Di ragno E ho finito Una delle quest Però di legna Mi serve Me ne mancano Ancora due Ma rispawnano Così in fretta Ah boh No Là giù Ce n'è altri Ah ho un'altra cosa Che posso ordinare Il legno Posso ordinarlo Adesso il legno Oh bello Oh splendido Ah perché ho finito Quella di collezione Il legno Scusate che altro È questo Hunt spiders Ah devo adesso Vedere gambe Craft more tables Ah leg spider Ok quindi Devo prendere Leg spider Craft more tables Devo andare in là Ironing ce l'ho Fishing daily Ok Devo combattere Altri ragni Niente Devo sperare Che respawnino In fretta Così da poterli Farmare Un pochettino Tra l'altro Sono già passati 20 minuti 20 minuti Sono passati Mi hanno dato Un sacco di silk Ma poche Solo una volta Le leg Mi hanno dato Questi spider Del manga Eccoli Sono respawnati Uno è respawnato Mi dà la silk Però mi pare 6 minuti Della mia vita Un web bundle Oh Vabbè Comunque Io vi invito A lasciare un mi piace Se il episodio vi è piaciuto Iscrivervi Se perché non è stato fatto E lasciare un commento Qua sotto Ciao a tutti Buona giornata Io continuerò Qua per un po' Fino a finire Ciao a tutti 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 Grazie.